Bene, in questo tempo convolso, in questo tempo terribile, di incertezza, io recomendo la lettura di un romanzo di Bruno Arpaia, che si chiama Il passato da fronte di noi. È veramente uno dei libri importanti scritti per un scrittore, un intellettuale europeo, nella ultima decada. È una raccomandazione fatta da tutta sincerità. Lui se pulvera per Club Dante. Grazie.